Vi è chiaro cosa è successo nel weekend? Cioè vi è chiaro che Pasquale Tridico dell'Inps ci ha detto che gli italiani sono stati inondati di denaro? Cioè quel signore che non è riuscito a pagare la cassa integrazione ha pagato i 600 euro con un gigantesco ritardo? Oggi più dell'80% della cassa integrazione è stato anticipato dalle aziende? Vi è chiaro che il commissario Arcuri ha fatto una dichiarazione dicendo con i tamponi e i reagenti per i tamponi non deve succedere quello che è successo con le mascherine? Come se parlasse con un suo amico immaginario perché quello che è successo sulle mascherine è responsabilità sua. Ma soprattutto vi è chiaro che il ministro boccia quello che non riesce a spendere i fondi europei senza cofinanziamento che ci sono stati dati dal primo giorno della crisi, dal primo giorno della crisi, ci dice che assumerà 60.000 guardie civiche per controllare i comportamenti degli italiani. Guardie civiche! Io penso che sia una cosa inaccettabile, lo è del tutto. Come possiamo pensare che 60.000 persone senza arte né parte, formate non si sa come, con un bando che arriverà persino in ritardo, si mettono a girare per l'Italia dicendo agli italiani cosa devono fare sulla base di norme di cui nessuno capisce nulla. Per esempio perché uno dentro il mare deve stare 7 metri di distanza, si deve portare il metro rispetto al metro o i due metri a seconda degli esercizi. E voi non pensiamo che sia giusto, che sia lecito, che sia normale che un paese democratico assuma 60.000 persone che non hanno nessuna esperienza, che non sono forze dell'ordine per vigilare sul comportamento degli italiani? E questi tre buffoni, perché di tre buffoni si tratta, non fanno il loro lavoro, cioè comprare le mascherine, far arrivare la cassa integrazione, spendere i fondi europei, assicurarsi che le regioni costruiscano come azione, ha proposto un piano dettagliatissimo, una cintura di protezione sanitaria, soprattutto di controlli, di tamponi, di analisi sierologiche per tutte le regioni. No, non fanno questo, non fanno il loro lavoro. Dicono agli italiani cosa devono fare e lo dicono con tono paternalistico, lo dicono con tono a tratti severo, come quello di un padre che dice agli italiani vi richiudiamo, come ha detto oggi Boccia. Ma vi siete stancati? Perché io mi sono stancato parecchio. Questa cosa della guardia civica, non so come l'hanno chiamata, assistenti sociali, quello che vi pare, non può accadere, non può accadere in questo paese. Quello che deve accadere in questo paese è che finalmente lo Stato, i ministri, i commissari fanno il loro lavoro. Su questa azione si batterà a fondo. Esiste un dovere degli italiani che è stato fatto, esiste un dovere dello Stato e delle regioni che in massima parte è stato fatto male. E su questo si devono concentrare le persone di governo. Grazie. Grazie. Grazie.